Affidati a dei professionisti del settore, metti al sicuro le tue spedizioni. A Cava dei Tirreni la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno avevano già preso l'altro ieri Daniele Confessore, considerato tra gli esponenti di spicco del clan Fezza De Vivo di Pagani, ma ieri pomeriggio le forze dell'ordine sono nuovamente intervenute in un'operazione congiunta nella frazione San Pietro, dove il soggetto si nascondeva da tempo per sfuggire all'arresto e hanno stavolta accolto nella flagranza di reato S.D.A. classe 1967 ed S.L. nato nel 90, rispettivamente madre e figlio. Ai due arrestati, come rende noto la procura della Repubblica di Nocera Inferiore, viene contestato il favoreggiamento aggravato dalla finalità di agevolare un'organizzazione mafiosa. In pratica le indagini condotte dalla procurante mafia mostrerebbero che i due avrebbero favorito Confessore accordandogli ospitalità in un immobile di cui avevano la disponibilità. L'arresto dei presunti fiancheggiatori sarebbe in attesa di convalida dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore, dove entrambi dovrebbero comparire nei prossimi giorni. Invece per Daniele Confessore l'interrogatorio era previsto in queste ore.